... Cordone umano numero uno, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Eh, tutto a posto. Tutto a posto. Che cazzaro! Eh, eh. La faccia dice tutto. Come sta andando? Va, per il momento va. Potete salutare? Lo ritroverete l'incato al fan club? Dai a uno! Si muore! Magari era Ratman fan club. Vedete i muscoli sono nel vuoto al massimo. Lui è l'ultimo, eh? Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 v